ora vediamo come si può costruire un sondaggio utilizzando l'applicazione google moduli allora adesso sono all'interno di drive vado sui soliti nove quadratini delle varie applicazioni google e cerco google moduli se non lo vedo qua sopra vado più in basso eccolo qua in fondo moduli quindi clicco su questa applicazione e da qui clicco su crea un nuovo modulo oppure un altro sistema è quello di andare qui su all'interno di google drive di sverdi drive cliccare su nuovo e cercare qui dentro modulo ecco moduli google quindi posso fare anche così in ogni caso esce questa questa schermata che è quella che mi permette di creare moduli un modulo quindi una specie di sondaggio si può usare sia per fare sondaggi sia per fare quiz adesso in questo video vi mostro come si crea un sondaggio allora vediamo che c'è una sezione che si chiama domande è una sezione risposte questo perché quando il modulo viene inviato poi io devo anche dire di accettare le risposte infatti c'è l'apposito bottone accetta o non accetta le risposte le risposte vengono vedete che vengono scritte in un apposito foglio di google quindi una specie di foglio elettronico una specie di foglio excel però bisogna prima creare le domande quindi vado su domande qui posso inserire diverse cose innanzitutto c'è un titolo e si possono aggiungere si può modificare il titolo quindi adesso facciamo un sondaggio uso del video nella didattica il titolo e poi ci sono le domande quindi si cominciano a inserire domande per inserire le domande c'è il proposito pulsante inserisci domanda posso inserire anche titoli descrizioni posso inserire immagini posso inserire video e posso separare diciamo la pagina in sezioni che magari vengono visualizzate come diverse pagine poi nella nella fruizione della del modulo allora proviamo aggiungere qualche domanda a cui diciamo l'utente deve rispondere hai mai usato un video per imparare qualcosa ora mettiamo come opzione quasi mai qualche volta spesso mettiamo tre opzioni queste sono tre opzioni scelta multipla ecco vedete che ci sono diverse opzioni io adesso ho usato la scelta multipla si può mettere una risposta breve quindi si risponde con una risposta breve un paragrafo nel senso se l'utente deve scrivere parecchio caselle di controllo è come la scelta multipla solo che si possono selezionare anche più di una casella nella stessa risposta elenco a discesa sarà per selezionare un un elemento in un elenco di parole a discesa quando ho creato una domanda posso anche decidere se renderla obbligatoria per cui per inviare e andare avanti diciamo nella nel sondaggio l'utente deve obbligatoriamente rispondere a questa domanda questo è per cancellare la domanda per eliminarla e questo è per duplicare magari voglio fare una domanda simile senza stare lì a riscrivere tutto quanto faccio duplica e cambio magari qualcosa proviamo a duplicare la domanda per esempio hai mai usato un video ecco adesso ho cambiato la domanda il resto l'ho lasciato per cui sfruttando questo pulsante duplica posso rapidamente creare anche nuove domande aggiungiamo aggiungiamo una nuova domanda ecco ho aggiunto un'altra domanda ti piacerebbe usare i video per la tua didattica quindi un'altra domanda scelta multipla proviamo a inserire una domanda di tipo paragrafo quindi diciamo uno può scrivere una risposta anche abbastanza lunga la domanda può essere spiega brevemente ecco spiega brevemente quello che secondo te potrebbe essere un aspetto positivo e uno negativo nell'uso dei video nella didattica e qui provate a dare una risposta non troppo lunga e rendiamolo obbligatorio ok poi si possono inserire immagini, video si può renderlo diciamo più carino si può anche ecco se andiamo sopra si può modificare quello che è un po' il tema, il colore qua vedete ci sono vari colori che posso utilizzare posso anche inserire un'immagine nel mio computer oppure vedete che c'è il pulsante carica foto oppure caricare delle immagini che ecco che la piattaforma mi propone e quindi ecco posso caricare ci sono anche immagini generiche quindi che possono andare bene così un po' per qualsiasi cosa quindi seleziono un'immagine generica eccolo qua per cui posso personalizzare così anche graficamente un po' il sondaggio ecco nelle impostazioni posso decidere alcune cose importanti per esempio se raccogliere l'indirizzo email quindi anche se l'utente non le scrive esplicitamente comunque vengono raccolti gli indirizzi email si richiede l'accesso in questo caso è limitato a utenti della piattaforma Isis Verdi oppure potrei aprirla anche a utenti non della piattaforma e quindi dovrei togliere questa spunta ecco poi la presentazione allora se viene suddiviso in sezioni si può utilizzare una barra di avanzamento per cui se creo delle sezioni che diventano come delle pagine posso decidere di far vedere una barra che mostra in quale parte mi trovo del sondaggio posso dire di ordinare in modo casuale le domande ma questo in genere magari può essere più utile se lo uso per fare un quiz e posso lasciare un link per inviare una seconda risposta se lo ritengo opportuno e poi il messaggio quando l'utente ha inviato il sondaggio lui visualizza una risposta che può essere personalizzata quella di default è la tua risposta è stata registrata salvo e quindi anche con l'impostazione sono a posto posso fare l'anteprima vedete l'occhio quindi clicco su anteprima e mi compare diciamo come il sondaggio così come lo vede l'utente con l'asterisco rosso compaiono le immagini le domande che sono obbligatorie sottorno e quindi insomma vedete che è abbastanza semplice e dopodiché quando ho finito posso cliccare su invia e allora per inviarlo posso vedete o inviarlo via mail e quindi qua sotto riporto le mail di chi lo deve fare ma forse la cosa più semplice è inviarlo tramite link per cui clicco su link questo è il link che io posso includere in qualche pagina web o posso anche abbreviare il link per renderlo un po' più semplice quindi adesso io mi copio questo link quindi lo copio e adesso lo posso inserire da qualche parte per esempio lo posso inserire nella lo posso inserire ecco qua in classroom nell'attività di classroom per cui adesso sto lavorando qua sul brave sondaggio devo inserire questo sondaggio per cui lo lo vado a inserire vedete io posso inserire anche dei link quindi eccolo qua per cui poi l'utente trova il link e va a fare il sondaggio ora vediamo come il sondaggio viene visto dall'utente e come vengono registrate le risposte per cui adesso io sono nell'account diciamo del generico docente che fa da utente e si ritrova questo link del sondaggio quindi clicca su sul link e gli compare il sondaggio da fare gli viene dito che l'indirizzo email verrà registrato quando invia il modulo e poi ci sono le domande quindi hai mai usato un video per imparare qualcosa facciamo qualche volta secondo te gli alunni hanno mai usato video per imparare qualcosa mettiamo quasi mai ti piacerebbe usare i video per la tua didattica mettiamo sì e poi spiega brevemente quello che secondo te potrebbe essere un aspetto positivo o negativo e qua diciamo poi uno deve scrivere ok scrive qualcosa e alla fine invio quindi clicco su invio vedete che compare il link e invia un'altra risposta quindi teoricamente potrei inviare anche un'altra risposta facciamolo così vediamo le due risposte quindi hai mai usato un video? quasi mai quasi mai no e poi invio anche questo torniamo sull'account quello di chi ha creato il sondaggio adesso chi ha creato il sondaggio dovrebbe riuscire a vedere le risposte per cui vedete se vado sulla sulla scheda risposte ah vabbè qua mi dice chi ha risposto e mi dà anche i grafici di ogni risposta vedete fa un diciamo già un'elaborazione statistica quindi mi dice la percentuale di ogni affermazione quindi quasi mai 50% qualche volta 50% hanno mai usato i video quasi mai 100% ti piacerebbe metà e metà e poi ci sono le due risposte perché vedete che interessante è anche perché statisticamente mi dà subito un feedback significativo e poi se le risposte sono tante posso mettermele su un foglio di lavoro se voglio magari rielaborarle in qualche altro modo clicco su creazione fogli di lavoro creo un nuovo foglio di lavoro vediamo eccolo qua vedete questo è un foglio tipo un foglio Excel in cui viene registrata la data l'ora l'indirizzo email e poi di ogni domanda vengono registrate tutte le risposte per cui è anche facile poi raccogliere diciamo in un foglio elettronico tutti i dati che possono essere ulteriormente rielaborati ecco quindi vedete che vediamo questo privato cos'era mi dice di ogni adesso ho visto di ogni utente mi dice cosa ha risposto quindi posso vedere il dettaglio diciamo del modulo di ogni utente va bene quindi posso vedere il riepilogo con tutti i grafici privato posso vedere di ogni singolo utente cosa ha risposto e quindi vedo i vari sondaggi oppure posso cliccando su visualizzare le risposte in fogli posso vedere tabulate tutti i dati e quindi fare tutte le considerazioni del caso